Vince nella sua Arezzo alla terza ripresa infliggendo un K.O. da manuale al suo avversario l'ungherese Ferenc Zabo. Adriano Nicchi, ex campione italiano supervelder ed ex sfidante europeo, è tornato a combattere dopo quattro anni sul ring del teatro tenda di Arezzo. Dopo un inizio non troppo brillante, Nicchi ha sfodelato la sua classe da boxer e alla terza ripresa ha colpito l'avversario Alviso. L'ungherese non è stato più in grado di proseguire l'incontro e così Nicchi ha vinto per K.O. Nel futuro di Adriano adesso c'è un match a settembre per un incontro titolato che gli consenta di entrare nelle classifiche dell'EU. Intanto però il sogno europeo continua. Arezzo non si smettisce mai, Arezzo è grande, Arezzo è con i miei dintorni perché sono veramente grandi, sono ottimi sostenitori e sono quelli che mi danno la forza ad andare avanti e di rialzarmi dopo tante fatiche e tante cilocche a terra. Mi sto rialzando, ho voglia e vedremo quello che farò. C'è da migliorare moltissimo ma va bene così, come rientro sono stra contento, c'era da stroncare il ghiaccio, il ghiaccio si è rotto. Adesso bisogna andare avanti, continuando a fare i passi migliori. Io ce la sto mettendo tutta, le difficoltà sono state molte ma ce la stiamo facendo alla grande, sono contento. Non era una schiappa, era uno che ci ha provato fino alla fine, i colpi li metteva, c'era un ottimo gancio destro e un'ottima serie. Infatti ho dovuto a staccarmi perché ero veramente forte e era un gran pugile. Ora i prossimi passi mi saranno di cercare di fare un altro match e poi chissà, un titolo mi piacerebbe farlo. Chissà che piano piano riesca a ritornare a fare il mio titolo europeo, perché lo voglio quel titolo.